Il calendario ha beffato queste due squadre, mettendole di fronte già alla prima giornata e stuzzicando la loro storica rivalità. Lo Juventus Stadium è certamente fra i fiori e l'occhiello del nostro calcio. È stato il primo stadio italiano di proprietà di un club, la Juve appunto, che qui ha costruito buona parte delle sue fortune in Italia e in Europa. Un vero e proprio fortino per i bianconeri, come dimostrano le pochissime squadre che sono uscite da qui con un risultato positivo. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Si schierano con un classico 3-5-2, modulo che all'occorrenza può trasformarsi 5-3-2 in fase di ripiegamento, ovviamente se si abbassano gli esterni centrocampo. Non a caso hanno elementi sulle fasce in grado di dare un buon contributo sia in fase di spinta sia quando si tratta di difendere. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. Sembra volersela giocare a viso aperto, visto che hanno scelto il 3-4-3 a trazione anteriore per cominciare questo match. Speriamo che il loro atteggiamento, iperoffensivo, si traduca poi in campo, in gol e spettacolo. Cerca la rete. Gonzalo Rodriguez. La difesa spazza via il pallone. Ci sarà rimessa laterale da buona posizione. Baragni a metri. Prova il Pipita. Una parata incredibile. Sarà calcio all'angolo per la Juve. Chiedira! Grande chiusura difensiva. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Ilicic. Baragni a metri verso l'area. Palla in out. Sarà rimessa laterale. Cercano spazi. Palla che termina in out. Dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Badelli. Tutto è pronto per il rinvio dal fondo. Barzagli. Matuidi. Possesso palla. Norma del vantaggio. Ancora la Juve. Si avvicina all'area. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. L'arbitro concede. Rimessa laterale per la Juve. È arrivata l'ammunizione da parte dell'arbitro. Pensava di averla fatta franca forse. Ma l'arbitro, attento, ha solo concesso il vantaggio. Chiedira. Attenzione al tiro. Ottimo l'intervento del portiere. Daniel Ves è pronto per l'angolo. Tibala. Grande riflesso del portiere. Che dice di no? Bernardeschi. Palla vagante. C'è spazio per andare. Buona triangolazione. Ecco il tiro. Palo che restringe il pallone che è ancora in gioco. Sarà la Juve a riprendere il gioco con la rimessa laterale. Palla riconquistata dagli avversari. Rimessa battuta proprio male. Matuidi. Ha spazio per tirare. Palla di nuovo alla Fiorentina. Pallone che finisce in fallo laterale. Higuaín. Lo ferma ma non controlla. Occhio al suo movimento. Prova il cross. Il difensore fa su al pallone. C'è stata la deviazione providenziale e sarà dunque corner. Palla allontanata. Pericolo. Ecco il tiro. Sbaglia tutto. Pallone che finisce sul fondo. Si è priantata a Ruggiano. Ha una buona occasione. Fallo laterale. A Juve a caccia del gol. Cerca la rete. Portiere che risponde qui. Senza grossi problemi. Hanno spezzato bene la trama qui. Baragna metri. Non è facile trovare spazi. Ci provano con la circolazione di palla. Kallinic. Ci sono metri a disposizione. Alexandro. Palla recuperata. Palla recuperata. Azione interrotta. Cristian Teio. Palla girare il pallone molto bene. Badelli. Occasione per la Fiorentina. Higuaín. Di Bala. Rodriguez. Badelli. Ilicic. Rodriguez. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Palla schizza via dopo il contrasto. Matuidi. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Ci saranno da recuperare tre minuti come mostra la lavagna del quarto uomo. Punta l'area con questa palla e punta la porta. Di Bala. Si rispera giustamente ma deve essere una buona opportunità. E probabilmente ne capiteranno altre. Risperarsi è inutile Pier. Astori. Badelli. E l'arbitro... Calcio d'inizio della ripresa con la Juventus in possesso. Si avvicina all'area. C'è un buon anticipo. Rodriguez. Ha perso il pallone. Bernardeschi. Guadagna metri verso l'area. Bonucci. Quadrado. Iguain. Matuidi. Occhio alla Juve. Iguain. Grande parata. Che riflesso. Potere fantastico. Ha dimostrato coraggio tecnico. Chiellini. Chiellini. Tocca la partita. Squadron ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Restituisce bene il pallone. Cercano il buco della difesa avversaria. Grande giocata. Prova. Grande intervento del portiere. Palla fuori e sarà calcio all'angolo per la Fiorentina. Ci sarà la rimessa dal fuoco. Quadrado. Alessandro. Di nuovo il pallone a quadrato. È stato fermato dal difensore. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. A spazio per tirare. Hanno sbagliato il pallone del possibile pareggio. Bonucci. Quadrado. Grande operazione di mercato concluda dal Barcellona come confermato direttamente. Può far male da lì. Una grandissima parata questa. Daniel Vres è pronto per l'angolo. Chiellini. L'intervento del portiere su un bel colpo di testa. Sarà la Juve a riprendere il gioco con la rimessa laterale. Dani Alves. Baragna metri. Magnifica lettura difensiva. La prossima gara casalinga di questa squadra che è valida per il campionato liano. Borca Valeri. Cristoforo. Kalinic. Sventa qui la minaccia. Occhio. Cerca l'area di rigore. Può colpire da lì. Il Pipita. Il gol di Higuain. Ha trovato due gol. Ha confermato la sensazione di essere in grande forma. Gli avversari devono marcarlo meglio. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Di Maio. Borca Valeri. Ilicic. Kalinic. Occhio all'avanzata dei viola. Cercano di aprire la difesa avversaria. Buona la chiusura. Quadrato. Ancora un quarto d'ora da giocare. Stefano, come vedi, la prossima gara della Fiorentina. Scenderà in campo contro il Chievo nel prossimo incontro di A. Teoricamente dovrebbe essere una partita agevole per loro. Ottima lettura. Recuperano il pallone. Ilicic. Borca Valeri. Kalinic. C'è spazio per andare. Trova il compagno. c'è pressione su di lui. Borca Valeri. Si avvicina all'area. Palla vagante. Palla recuperata dalla Juve. Higuain. Tibala. 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 Ilicic. Hanno provato in qualche modo a rientrare in partita, ma non sono stati fortunati. Conclusione che si è spenta a lato per una questione di centimetri. recupera il pallone con un intervento facile. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. guadagna metri verso l'area. la chiude molto bene. Matuidi. Ottimo pallone filtrante. Kalinic. Kalinic. Efficace è qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. La Fiorentina ha conquistato questo calcio d'angolo. La grafica ci mostra i corner fin qui. Grande recupero. Finisce qui. Vittoria per la Juve. E la stagione inizia dunque nel migliore dei modi. La strada è lunga, ma l'inizio è perfetto. E chi inizia bene Pierluigi. Vincerà l'esodio è sempre importante per il morale. Per l'esodio è riche. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.